Signori, benvenuti in questo video di rassunto dell'evento avvenuto sabato scorso, l'evento Asso nella Mandia che ha riguardato l'intera community italiana di Destiny 2 L'evento consisteva nel celebrare, diciamo, Gade o comunque nel cercare di totalizzare più punti possibili utilizzando solo e esclusivamente l'asso di picche Con uccisioni precise e non sia in PvE facendo la playlist di assalti ma anche in PvP con controllo, comp e eliminazione E ogni modalità aveva dei propri moltiplicatori per calcolare i punteggi Al termine delle 5 ore chi faceva più punti essenzialmente vinceva Evento indetto dal disco di Destiny 2 Italia, supportato da Giorno Gaming e dalla Bungie stessa che ha fornito dei corposi premi Noi abbiamo partecipato facendo per 5 ore solo e soltanto crogiolo E' stata parecchio dura, però alla fine di tutto ci siamo comunque divertiti Siamo arrivati in totale settimi su oltre 300 iscritti di cui 200 partecipanti effettivi Una buona posizione se consideriamo che nella top 10 ero l'unica ad aver fatto crogiolo Tutti gli altri avevano fatto assalti che secondo me erano tra i favoriti Ma ognuno ha le proprie tattiche, noi siamo dei giocatori per lo più PvP E ovviamente abbiamo votato per una tattica brutalmente PvP Ho cercato di riassumere quindi un po' delle partite migliori, qualche clipettina carina Vi lascio al video che sarà presente ASMR, non musica, nient'altro se non il rumore, il suono dell'asso di picche L'evento è stato bello, ci siamo divertiti, GG a tutti quelli che hanno partecipato, GG ai vincitori Mi raccomando, noi ci becchiamo con la prossima season a partire da martedì, 11 maggio Bella boys, male Darko Ma tanto regà, io secondo me sono sicuro al 99% che vincerà uno che ha fatto assalti, come lo dico Vabbè però non c'era scritto che mi devo beccare la gente che si detrasporta Eh, su Eh, rimasto, mi sta affleccando a me col bastione questo Che cazzo vuoi da me? Non compro un cazzo Io ho fatto una serie da 20, ma questa finisce in pietà Abbiamo abbastanza, è finito Questa è un assaltatore 28 kill, vabbè 300, un attimo sto calcolando l'ultima partita ma sei a 280 senza l'ultima Allora quest'altro, mamma mia Adesso esplode di madre gravida Quello no, è una lucidora Non ho capito io C'è un certaine bizzarra Ti attivo, capito? Per alzare ha aumentato la pressione Ma sti cavoli sono giovane Mi può pure esplodere la pressione Allora i miei headshot sono headshot mi raccomando Forse qualcuno dovrebbe uccidere Z-Raptor Forse qualcuno dovrebbe proprio uccidere Questo Z-Raptor che fa le serie da 20 Utilizzando solo l'asso di picche Ma non è possibile Sono calderone oggi Sono un'ottima mappa da giocare con la primaria Ma dove sono andati l'arte 2? Non è fermo E ho già recuperato il tempo perso di quel game di prima Vai da casa Vai da casa Vabbè Sei un grande DJ Zalam fatelo VIP in canale No me l'ha un culato Senti da 10 Va bene Va bene Va bene Fermati Che può essere quella lobby Fermati Senti da 10 Ma me l'ho congelato tre porte Ma che so Ma c'ho scritto stronzo in capoccia Da conservare sotto i 10 gradi Così Ma quanti ce ne stanno con il grusolo aico Ma che è oh Esci Ma quanti ce ne stai da tirare Ma che è oh Oh cazzo Me volevi pushare Me volevi pushare No 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 Quello che lagga no Il titano che lagga no Che lobby è Poi dicono che so io che laggo I mortacci vostra Torco 2 Vi vede in un universo Parallelo E mi rompi di coglione a me Una bella lobby de bot questa Una bella lobby de bot Sì Oh baby Oh baby Oh baby Ecco uno spettro Ma non quello spettro Altro fantasma nella noce Madonna mia Lasciate gli ebbi Mamma mia rega Ma che è sto game 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 Come l'ho uccito Come l'ho uccito Come l'ho uccito Rega Come l'ho uccito Una persona del genere Carico e quasi la Bolle Che è sto peer shield Che prendi Quando c'hai la war mask Dai 50 kill Ne potevo fare davvero 60 Rega Sono morta a stecca Ma dai Nella vita Più c'hai fretta In questo caso Che ti entri in lobby Più c'hai fretta Da andare a Roma Da andare da una parte Un appuntamento Se hai ritardo Tutti i semafori rossi La pattuglia E il vecchio Scoppola E il camion Dell'ama Qualcuno dovrebbe Uccidere Zeta Raptor Va bene Se ne hai abbastanza Shax Perché io te ne ho data Fin troppo Vedrai lo score Di fine game Ora capisci Quando dico Uno vi sei Comunque Un'altra Body Un'altra 14 kill 13 precise E una in body 3 minuti 3 minuti Perché tu le sta vista Ok Ne ho vinto 20 kill 17 precise E 3 in body Just in time Basta 772 punti Dica Va bene E 2 María 3 2 5